Cari quadisti ed eccoci, una news per questa volta e vedremo di farlo anche per le prossime gare. Eccoci con la videocronica del podio di giornata e partiamo come prima videocronica dei podi. In questa occasione il podio di giornata dell'Europeo Qualcross, è dovuto. Vediamo Tony Sousa-Borge, team in quad, terzo posto di giornata, meritatissimo. Secondo posto Stefan Schreiber, team KTM ufficiale. E al primo posto il dominatore, il mattatore di questa prova dell'Europeo d'Italia. Presidente del nuovo posto, il primo presentato, il mattatore, il nostro gran premio dell'Europeo quattro cento e cinque. Buongiorno a tutti, grazie a tutti, benvenuto del 9 di giugno. Buongiorno a tutti, grazie a tutti, benvenuto del Presidente. Ecco signori, il podio dell'Europeo, primo posto Jeremy Barnier, team Motoworks di VT Canham. Seconda posizione, Stefan Schreiber, team KTM Austria. Terza posizione, Tony Sousa-Borge, team in quad di America. E' l'unno francese. E' l'unno francese. E' l'unno francese. Ecco signori, premiazione, grandi, spettacolari per i piloti, i complimenti a loro, un grande grazie per averci fatto vivere una giornata fantastica. Signori, da ferro da quadisti.it, un saluto, complimenti ai campioni.